Oddio, che ha su un labbro? È una cannuccia? Non sta per fare quello... No, no, orrendo! Madonna, bruttissimo! Ti sarebbe costato z... Non sta per fare quello... No, no, orrendo! Madonna, bruttissimo! Ti sarebbe costato zero euro non postare questa cosa Eppure hai deciso di farlo Come ti fa a diventare un'idea del genere? Che poi, che cavolo? Che ha su un labbro? È una cannuccia? No, no, orrendo! Madonna, bruttissimo! Ti sarebbe costato zero euro non postare questa cosa Eppure... No, no, orrendo! Madonna, bruttissimo! Ti sarebbe costato zero euro non postare questa cosa Eppure... Oddio, che ha su un labbro? È una cannuccia? Modo Eppure e pi beginnen sui... Ti saper... Tu avcee così... 2 o per sistemazione... O man è stata...